Già dobbiamo tirare fuori in reitano subito! La mia macchina se ne sto andando a mare Addio Questa è la mia macchina, la mia macchina! Le macchina a mare Già dobbiamo tirare fuori in reitano subito! Pozzare è in mano! Gioia, il cartello era sto volta fuori, ma qua è la mano del stesso telefono Perchè io ce la dare una mano e mi tiremo sulla sala tutti ieri ... Grazie a tutti.